e bella a tutti ragazzi sono samuel in questo nuovo video e oggi siamo su fortnite con matteo saluta matteo ciao quindi raga arrivi di qua perchè siamo su fortnite per fare le ultime partite della season 6 di fortnite perchè ovviamente domani mattina mi sa ci saranno c'erano la season 7 raga ma mi dono 2 si allora giochiamo in coppia facciamo queste ultime partite la season 6 è tantissima bella è tanto bella metti coppia matteo aspetta metto no ok metti pronto raga raga vi avverto raga vi avverto una cosa i pass battaglia nello sciopo solamente se mi piace va bene raga raga sono livello 131 razz cromo raga forse c'è superman forse non lo sappiamo forse forse raga non lo sappiamo speriamo che c'è io lo sciopo subito raga speriamo che c'è e speriamo e speriamo tantissimo che è nel pass battaglia ok dobbiamo vincere questa partita perchè è l'ultima no non l'ultima le facciamo alcune a bene raga le ultime partite è sera aspetta è quasi sera perchè ancora mi sa non so adesso che stiamo registrando il video sono le 7 e 22 poi a chi ora lo carica non lo so perchè ci vuole un pochino di tempo per caricarlo vabbè matteo andiamo andiamo no andiamo alla guglia per favore no poi c'è il boss forte e se ci scappa va bene va bene raga le ultime partite raga le ultime partite e me le voglio giocare con galazia che peccato che peccato ma a me sarà bellissima perchè ci sa mi sa che parlerà degli alieni io ricordo alla titolo 5 che c'era il pallino grande il pallino punto zero vuoi dire e no al cielo al centro il punto zero e si non mi ricordo come si chiamava ah ok questo è un subito un assalto primordiale e me lo prendo volentieri ehi c'è il boss e attenzione cosa c'è scusa un tattico blu perfetto noi boss ok io ho provato un tattico verde ok io ce lo blu io ce lo blu raga ok tu il boss noi boss e boss scappa bro scappa 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 bro scappa scappa insieme lo abbiamo detto il boss ok raga oggi è lunedì raga non vedo l'ora che sia nuova season no oggi non c'è alberto infatti oggi non c'è alberto comunque raga vi do un avviso alberto è tornato da milano però ancora non abbiamo fatto un video con non ho fatto un video con lui ancora comunque raga eh lo eh alle notizie di fortnite no il video è su fortnite intendo no hanno messo hanno messo delle altre immagini mi sa che c'è eh eh non mi sto ricordando più eh no la macchina fotografica mi sa vabbè ma soltanto il doppio che vedo perchè non mi sto ricordando benissimo il casco è una ah ok ora mi ricordo il casco l'ultima l'ultima partita che facciamo la dobbiamo vincere il casco il casco stavo dicendo mi sa che allora mentre hanno le moto si vede non so e anche un fucile una specie di pistola ti ricordi il capitolo 2? si ceramida che ricordi raga un falò e un falò c'è? eh boh che ricordi il capitolo di la stagione 2 raga che ricordi io io Matteo perchè non ti sento più? ok eh ha detto aspetta comunque raga raga che ricordi la stagione 2 ceramida era bellissima quella stagione raga era bellissima aspettate un attimo raga eh due secondi due secondi raga eh ok ok scusate se avete sentito non so se avete sentito il tumore vabbè ehi pulsiamo il post eh vabbè ci disse io ho un arco io ho un arco io ho un arco no no lasciamolo vivere così raga raga avete sentito quel baa non è niente non preoccupate sai raga non è niente eh è qua sotto il boss è qua sotto è qua sotto lasciamolo vivere per gli ultimi giorni ahhh 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 scemo di un boss ahhh ahhh mi ha fatto pure danno da caduta voglio un medico? si e grazie ehh 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 grazie raga non so se mi sentavate ma spero di sì ehh 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 ce l'ho già ok ce l'ho già merda eccolo eccolo lascino vivere per il lì lì ehi lascino vivere per l'ultimo giorno e mi sto sparando ci sta seguendo anche oh ma noi ci stiamo lasciando vivere però per l'ultimo giorno che poi te ne vai via e poi te ne vai a fanno e poi te ne vai a vanfambagno boss c'è un nemico porca trota porca trota ok l'ucciso raga 10 di vita porca trota sono rovinato porca trota alla grande ah ah mi sono bruciato il sedere ragazzi mi ha detto un giorno facciamo il provino a uno provino no non so no un video col provino col provino non promettre niente che non lo so raga non lo so però raga eh comunque scrivetemi oh porco schifo aspetta devo controllare una cosa vabbè niente aspetta mannaggia aspetta e scusa e colpo del cammino automatico ok perfetto cura raga e vuoi una cittina o due eh si grazie hai un medito prego eh no peccato insieme l'abbiamo detto peccato insieme l'abbiamo detto peccato insieme l'abbiamo detto peccato che pescato sono livello 130 vabbè che pescato una mitraglietta e pescato una mitraglietta dai la mitraglietta è mia ora si fa eh non è partita ancora però andiamo ce n'è nella guglia dici gente io sono full di scudo ma ho 30 anni in vita quindi morirò e io 48 ne ho vabbè che ne hai di più di me più 18 aspetta che faccio una bella pescata c'è una gallina a bocca dai per favore spiegati peccato ok un balzo flop vabbè non mi dà vita no si me l'ha data ho la 45 di vita perfetto c'è gente eh usare l'arco puzzolente per il mordiale lasciamelo oh da dietro io penso a questa banana ok 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 ha tirato la banana banana ok è ucciso la banana ok io mi devo fare il meditazione che l'ho trovato attento ci arriva una Lamborghini c'è un nemico che era troppa gente attento c'è un neymar ma io l'ho ammazzo l'ho ammazzato bravo la carne c'è altra gente c'è altra gente mi devo fare la carne io ok me lo sono fatto e puoi andare in zona sicura l'ho fatto volere stiamo giocando 12 minuti in video incredibile quanti? 12 minuti vengo ad aiutarti tanto non sono lontano vedo quel piccolo quel piccolo playerino vabbè però non posso scusami non fa niente è brutto che mi finisco i mazzi io niente l'ho finito muoviamo adesso si tanto no vabbè ma si sta muovendo non è finita che stupido che sono aia ma perchè non mettono le giampo perchè non le rimettono perchè non le rimettono le giampo appunto appunto erano utilissime e a 40 di vita faccio le carna le carni ve lo faccio adesso ok vai non ce la faccio no non dire così non ce la fai non ce la faccio niente niente raga non ce la faccio niente raga raga niente non ce la faccio non ce la faccio ma te non ti sento più ha detto aspetta raga niente raga non ce la faccio addio matteo torniamo in lopi ma matteo ma perchè non ti sento più eccomi ok 14 minuti l'ultima partita matteo facciamo l'ultima partita chiudiamo il video sai 14 minuti già in video ok ok no no però già da quasi 15 minuti che c'è un video eh no non c'è un video non facciamo la zona è morto facciamo l'arena coppia va bene metti l'arena coppia allora raga manca pochissimo manca proprio quante ore non so un giorno un giorno un giorno manca raga altre 8 ore non so un altro po' di ore esce la nuova season come mannangelo è bellissimo sarà bellissimo questo balletto me lo sono shoppato in live che c'è? cosa? la richiesta video vabbè raga non so cosa cavolo è successo vabbè vabbè mettiamo coppia vuoi? è partita ormai la partita si è partita se? si a me sto caricando e a me no io e l'obbito no ah mannangelo raga raga sta arrivando la nuova season sto tornando raga se di mattina raga faccio il video sicuramente ma se di notte non lo faccio raga dai giochiamo facciamo 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 ora massiccio ok ma la metta aspetta aspetta che mi metto un gioco che cavolo sta va bene aspetta aspetta ah facciamo riempire e non riempire non voglio che parla altra gente non voglio che parla ok riempie messo no a me eh ma non vedo niente hai la connessione scarsa Matteo ah ok non riempire a me dice riempire però Matteo mi senti io non riempire ok un giorno faremo il video di brulstass quando esce la nuova season non lo so non lo so io sono arrivato a 13.500 50 volte io ho sbloccato buone il video della speciale di 38 iscritti dai dai laga la nuova si sono sta arrivando ho detto 50 una volta scusate potrebbero mettere gli uffi veramente con gli alieni eh se non non è buttarsi sì hai visto vicino a fascino con lo stare che c'è eh quel cerchio che c'è a terra là nella paglia sì quello per gli alieni eh ma eh mi sa di sì eh eh ci sono dei cerchi no che mi hanno che mi hanno detto che era che significa le torri guardiane comunque eh può essere raga vi immaginate no che che quel cerchio 40 cut in arena che scarso che sono in arena eh quel cerchio che c'è c'è una colossale potrebbe essere secondo voi potrebbe essere una pista d'atterraggio per le per gli uffi potarsi secondo te matteo ma questo è una massiccia arena arena mi sa no è una massiccia eh no io vedo 40 punti mi sa che non è arena perché ho visto un'arma leggendaria vabbè è normale non è arena raga che sarebbe essere baggavo mi dice 40 punti io ho una mintraglietta tattica ho una mintraglietta tattica bravo livello 133 io sono quasi livello 132 ok però però sempre le chilime no raga pure qua sta il giornalino degli alieni sì è vero pure qua questo muro sta ho fatto la fotografia raga scusate vabbè non c'è niente da scopersi che dico lasciamelo lasciamelo ok grazie ho uno di video bro e non posso fare niente mi faccio le cd cavolo non c'è un'altra arma io solo metto un'altra dieta tattica che non c'è questo sento gente sparare sempre le kill però mi svegli c'è un'altra ci sono altri due lascia un'altra ce n'è un'altra lascia questo spam col P90 ok ucciso no che cavolo è stato torna in lobby vabbè no ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto lasciate un like iscrivete matteo e dispiace perché dobbiamo chiudere il video lasciate un like attivata la campanellina al prossimo video raga che sarà domani aspetta facciamo un'altra partita in arena e poi finisce il video no 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 raga raga ci vediamo domani mattina sera metro di mattina la season e e e e poi vediamo perché non so poi vediamo se c'è anche Matteo e e e al prossimo video che devo dire e ciao raga il prossimo video sarà nella stagione 7 ciao raga ci vediamo domani raga ciao domani mattina se c'è di mattina una season ciao ciao